Lo sportello del cittadino incontra il dottor Giuseppe Lessa, Pino Lessa, già consigliere comunale di Taranto, direttore dell'ACI di Taranto. Dottor Lessa, dal suo osservatorio privilegiato, per così dire, lei vede le dinamiche di Taranto, avrà notato sicuramente lo stato di sofferenze e di decozione che vive la comunità ionica. Domanda, rimanere, resistere o andare via ed eventualmente si decida di combattere sul campo, da dove ripartire? Assolutamente rimanere, chi parte, chi va, a meno che non ci siano necessità impellenti, io lo ritengo un perdente, quindi rimanere e combattere e cercare di vincere le battaglie. Certo, su questo territorio la battaglia è molto difficile, sia per problemi nazionali che per problemi locali, qua va tutto male, non c'è una cosa che riesce a emergere e a portare risultati di natura economica, di natura lavorativa, di natura sociale in queste città. La responsabilità politica dei vari enti, comune, regione? Ma quando le cose non funzionano, quello c'è sempre, perché se la politica è buona e la politica funziona, sicuramente i risultati ci sono. Vi ripeto, questo è un territorio in cui è molto difficile questo momento poter riuscire a fare cose molto positive, però sicuramente diverse cose sarebbero dovute fare. In che modo si potrebbero fare? Se lei domani mattina decidesse di dire ripartiamo operativamente, andasse in sala chirurgica per così dire, come si comporterebbe? Innanzitutto che rapporti dovrebbero sussistere tra le varie forze politiche, che questo è poi il punto nodale? Io penso che bisognerebbe ricominciare da zero, perché la situazione è così confusa in questo momento, è come quando fa un tema, conviene rifarlo e non correggere quello che è stato già fatto, perché così esce meglio. Quindi cominciare da zero, eliminare molta burocrazia, buttarsi sui giovani, sulla libera imprenditoria, andare a favore dei artigiani, commerciali, perché loro portano attività commerciale, la moneta che gira, sono loro che portano queste cose. Chiaramente in questa maniera lo stiamo andando a Taranto, purtroppo molti hanno chiuso le serrande, non dobbiamo andare in controtendenza, cercare di farle aprire queste serrande. Per concludere, questa classe politica che ha determinato l'antipolitica? Ha avuto molte difficoltà, qualche cosa l'ha combinata lei e certamente non è stata brillante riuscire a trovare soluzioni per questa città. Pino Alessa potrebbe tornare in campo? Vediamo, pensiamoci.